Come da cartellone proseguono gli eventi del Peperoncino Jets Festival che si sta svolgendo nella provincia di Cosenza. Nella serata di ieri si è svolto ad Altomonte uno degli appuntamenti più riusciti di questa edizione, Woman Jets & Wine, che ha fatto tappa presso un'azienda vinicola dove tra una passeggiata tra le vigne ed una degustazione di buon vino si è esibita Elisa Brown, a più riprese definita la voce più soul della Calabria, che è stata supportata armonicamente dal virtuoso delle sei corde, Daniele Marcante. Questo è un evento nell'evento, Women Jets & Wine, quindi donne Jets e vino, quest'olta il Peperoncino Jets Festival che va nelle cantine del territorio, nelle cantine che fanno parte del consorzio Vinidopter di Cosenza. Le prime due salate sono andate benissimo, oltre ogni aspettativa siamo molto contenti, sia noi del Peperoncino Jets Festival che la direzione del consorzio, quindi siamo sicuri che questo evento avrà lunga vita. Frequentano le serate bellissime persone, abbiamo artisti incredibili, sia nazionali che internazionali, senza dimenticare gli artisti regionali, e le cantine qui sono meravigliose, con dei vitigni autoctoni veramente squisiti, veramente da assaggiare, e quindi sarà sicuramente un evento da ripetere in futuro. Un'idea quella del Women Jets & Wine, promossa e organizzata all'interno del Peperoncino Jets Festival, grazie al binomio vincente, quale è quello del vino per l'appunto e del jazz, un evento che agli organizzatori sta dando tante soddisfazioni. È una formula che promuove veramente il territorio, da tutti i punti di vista, cioè vengono stimolati tutti e cinque i sensi della persona umana, e la Calabria ha veramente tanto da offrire da questo punto di vista.